Che le giù, anche tu, la danza della spiaggia, la danza della spiaggia, le mani balliamo insieme, tutto sulle mani come ieri a fare. Niente, è così. Andiamo a mangiare la pappa, la pappa, andiamo da Gennaro a mangiare la pappa, andiamo da Gaetano a mangiare la pappa. Sì, 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 sì. E quindi oggi lo cheppiamo dalla danza della valigia, che Edo se ne torna a casa, lascia questo bellissimo resort, invece adesso arriva a Fedez, è ancora in tour con Amy Schilla e tutto quanto salutare in agriturismo, tranne l'alcol al mattino. Ciao!